Sarà il Consiglio regionale a decidere sulla nuova legge che regolamenterà i trabocchi dell'omonima costa, ormai divenuti veri e propri ristoranti sul mare. Le modifiche proposte alla legge regionale del 2001 riguardano sostanzialmente superficie utile e limiti d'accesso, un problema sollevato dalla recente inchiesta dalla procura di Lanciano con i rilievi mossi dalla Capitaneria di Porto di Ortona. La superficie massima destinata alla ristorazione sarà di 160 metri quadrati, oltre i 50 metri quadrati destinati a cucine e servizi accessori. Il numero limite di posti sarà invece di 60 tra ospiti e personale. Intanto l'assessore regionale all'urbanistica e De Magno Marittimo Nicola Campitelli smorza le polemiche sull'audizione in commissione. Sinceramente a me meraviglia un po' anche l'opposizione ma sembra che Campitelli, l'assessore Campitelli si stia inventando che oggi sui trabocchi si possa fare ristorazione. L'unica cosa che sta facendo l'assessore Campitelli mosso da buonsenso è quello di rimettere ordine a una materia legislativa che era lasciata completamente all'abbandono, che non lasciava spazio a confusione. Quello che a me premeva fare è rimettere ordine a una legge regionale che ordine non aveva. Mettiamo anche un limite tenuto conto che poi tutte le autorizzazioni in materia di edilizia e di competenza comunale e che sia chiaro la regione non rilascia autorizzazione, sanatorie eccetera 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 e questo lo dovrebbero sapere. Per quanto riguarda la sicurezza noi abbiamo saputo un numero massimo di 60 persone al di là di quelle che sono tutte poi le documentazioni per quanto riguarda la staticità del trabocco che comunque il proprietario deve farsi rilasciare da un tecnico abilitato.